Ciao a tutti dell'aere operai, oggi si sta svolgendo ancora l'incontro per la proposta di salario minimo tra tutte le opposizioni e il governo, la Meloni ha accettato di parlarne almeno, insomma diamo atto che vediamo cosa ne salta fuori, se non che comunque tutte le opposizioni tranne Italia è viva, ma va Renzi, Renzi si è sfilata all'ultimo momento e ha detto che non vuole andare a parlare di una proposta minima di 9 euro all'ora, e te credo, cosa gli frega lui del salario minimo, cosa gli interessa, voglio dire, non è mica roba per lui, capisci? Io l'avrei fatto sedere dalla parte del governo, così magari ci andava e contrattava però al contrario, cioè contro, perché lì starebbe proprio bene, di fatto lui non è all'opposizione però appoggia quasi tutto quello che dice il governo e quindi bisogna capire a che gioco gioca, anche se comunque si è capito da un sacco di tempo però per dire, Renzi, beh, e pensate che è stato il segretario del PD, osannato e acclamato da tutti, anche da gente che io conosco benissimo, erano renziani di ferro poah!